ciao ragazzi buongiorno sono di nuovo a pesca e mi trovo nel mio lago preferito il lago del turano oggi voglio mettere a dura prova la mia nuova canna la favorit x1.1 in particolare mi sono portato la 2 metri e 29 un po più lunga del solito così riesco a fare dei bei lanci e ha una grammatura di 7 21 grammi ma 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 abbiamo preso qualcosa non so cosa ma qualcosa c'è forse un reale come lo prendo no va bene ragazzi no va bene ok ragazzi non sarà un aspio ma ma c'è un big reale ragazzi eccoci siamo alla fine di questa bellissima giornata sul lago del turano non è uscito nessun aspio però sono davvero soddisfatto perché è uscito il re del lago del turano un bellissimo persico reale sono davvero soddisfatto anche della mia favorit x1.1 che dire ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao è Grazie a tutti.